Quelli della mia generazione, cioè quelli nati a metà degli anni 50, il baby boom, che hanno frequentato queste scuole, cosa fosse il distanziamento, cosa fossero i doppi turni, cosa fossero gli ingressi scaglionati per orario, lo sanno benissimo. Abbiamo provato tutto in quegli anni, gli ingressi scaglionati e il distanziamento, però non per ragioni di salute, perché ci fosse in giro qualche epidemia, ma per l'ossessione sessista di genere di coloro che le scuole reggevano. Avevano come missione quella di impedire qualsiasi contatto tra maschi e femmine. Allora noi maschietti entravamo da una porta, le femmine entravano dall'altra, ma non alla stessa ora, perché magari ci saremmo potuti incontrare, si entrava noi un quarto d'ora prima, loro un quarto d'ora dopo. Dovevamo stare rigidamente separati anche all'interno della scuola, su corridoi diversi, oltre che in aule diverse. E qualsiasi contatto era punito nella maniera più severa. Non ho mai capito bene allora e francamente non lo capisco neanche oggi che cosa mai fosse, da che cosa fosse nata questa ossessione, che poi era difficilmente spiegabile con dei bambini delle elementari, ma anche con dei ragazzi delle medie. Poi quando arrivamo alle superiori, naturalmente tutto cade, avevamo classi miste, era il 68 e vabbè, e tutto cambiò. Adesso è una scuola abbandonata, aspetta una ristrutturazione, che non si sa quando arriverà, ma 60 anni fa entravamo da questo cortile e erano gli anni nei quali Bolzano aveva una carenza di scuole assolutamente drammatica, perché gli istituti erano quelli di 30 anni prima e la popolazione era raddoppiata. Quindi ci si arrangiava anche, adesso si parla di doppi turni, noi li facevamo, a volte erano anche tripli turni, nel senso che noi si andavamo a scuola o la mattina o il pomeriggio e ogni aula era occupata due volte, ma alla sera, quando passavo con i miei genitori lungo questa strada, vedevo le aule illuminate e dentro c'erano gli adulti, quelli che facevano la scuola elementare per prendere un diploma che non avevano preso per le vicissitudini della vita e soprattutto per quelle della guerra. Quindi abbiamo provato, oltre a un distanziamento di genere abbastanza folle, anche l'utilizzo delle classi in questa maniera. Ci sono voluti anni e molto lavoro per costruire scuole, per permettere ai ragazzi di adesso di avere una situazione un po' diversa, ma allora non era facile e c'è stato un grande impegno, credo anche da parte degli insegnanti, perché non era facile neppure per loro. Qui dietro ci sono delle aule in seminterrato con le bocche di lupo, nelle quali la luce del giorno non arrivava praticamente mai e si usavano anche quelle.